A nove all'interno dell'impianto biomassa stanno installando i motori. Nel frattempo gli attivisti del comitato che si battono contro l'apertura del sito si sono rivolti a una squadra di avvocati specializzata in questo genere di cause. L'intenzione è quella di seguire ogni strada a disposizione, anche quella legale se necessario. Perché se il sindaco ha già espresso la propria posizione a riguardo dicendo di non poter intervenire, i cittadini possono sempre giocarsi la carta del ricorso. Intanto in giornata in comune il comitato ha protocollato le firme per il referendum. Sono 560 firme per il referendum. Se si aggiungono poi quelle raccolte per la petizione si sfiorano le 1400 sottoscrizioni, un segnale forte che la cittadinanza ha dato al primo cittadino Luisetto. Siamo preoccupati perché i lavori stanno andando veramente avanti molto velocemente, quindi noi dobbiamo adesso cercare di sensibilizzare ancora di più il sindaco e fargli vedere che la gente non lo vuole l'impianto. Tanta la delusione perché gli appelli sono caduti nel vuoto. Sulla questione che non è politica ci si aspettava maggiore collaborazione. Noi di politico, l'abbiamo detto dall'inizio, non abbiamo niente. Cioè noi cerchiamo l'appoggio di qualsiasi partito, di qualsiasi posizione ci sia all'interno del Consiglio. L'unico appoggio l'abbiamo avuto dalla minoranza perché comunque i consiglieri di maggioranza hanno sì dichiarato che sono contrari alla biomassa ma non ci appoggiano. Quindi noi accettiamo tutti.